Oggi 26 febbraio siamo qui con la candidata Michela Donofrio, candidata al collegio uninominale per il partito Liberi e Uguali. Dunque come sta andando questa campagna elettorale, qual è il clima che si respira in questi giorni? È una tornata elettorale piuttosto complicata, anche perché è in un momento storico piuttosto delicato, tra le altre cose noi siamo un po' in difficoltà perché una campagna elettorale è atipica, si svolge in un periodo invernale e se è vero che in un mercato globalizzato la destagionalizzazione accepisce, purtroppo in ambito politico è importante che ci sia il sole. Poi una campagna elettorale, la chiamerei più tornata elettorale perché il periodo è davvero molto breve, dicevo complicata, difficile ma decisiva, ci sono state alcune vicende che abbastanza note sul territorio che in qualche modo hanno un po' cambiato la direzione, io francamente sono abbastanza positiva perché l'obiettivo finale è che Liberi e Uguali, di cui sono onorata di essere qui oggi rappresentante, alla fine di questo percorso diventi un partito, noi nasciamo come un progetto, proponiamo e facciamo delle proiezioni future e speriamo che con l'alba del 5 marzo diventiamo un partito politico vero e proprio. Lì appunto siete un partito giovane, quindi qual è lo scarto rispetto agli altri partiti e in particolare il PD appunto? Allora lo scarto è che noi siamo la vera sinistra, cioè se vogliamo rifondare la sinistra autentica e quella originale bisogna dare il voto a Liberi e Uguali, perché oggi il PD non si può più qualificare come una macro area di sinistra, il PD è un polo, un polo che io ritengo e mi sento di dirlo con tutta competenza che ha molta influenza renziana, il PD sta sostenendo molto i grandi poteri e quindi le banche, il PD come un centro-destra che direi forse in modo un po' mistificato o più o meno evidente ha del neofascismo molto subdolo, cioè francamente non fa altro che liberare gli imprenditori e quindi i poteri forti di 40-50 mila miliardi di tasse per poi collassare il proletariato, il ceto medio e il ceto basso, Liberi e Uguali è fatto da cittadini, io d'altronde vengo dalla società civile, non ho mai mangiato pane politica, sono una libera professionista, insegno nella scuola, mi sono con onore proiettata in questa avventura che mi ha appassionato e addirittura mi ha ammalata perché adesso non ho da coltivare la parrocchia come i miei antagonisti, io uso il termine antagonista perché vengo da una cultura classica, quindi in greco antiagono vuole dire chi è nella battaglia contrario a te e io l'ho fatto perché mi voglio fare portavoce, portavoce di una popolazione che è stata dissennata da una classe dirigente che ha adottato delle logiche politiche fuori asse, senza bussola e questo Liberi e Uguali lo consente perché davvero è un faro, è un focus dove il voto diventa un sì e diventa fiducia e speranza e non soltanto una barra. Con la legge elettorale attuale probabilmente ci ritroveremo al governo con una maggioranza non molto stabile, con le varie coalizioni che si vengono a creare, quindi lì quale futuro vede per questo governo, qual è il suo pronostico e se crede che avrà anche una vita breve o lunga? Io credo che non ci sia nessun governo, presumo per quello che avverto che non si formerà una coalizione di maggioranza, perché è vero che i sondaggi, perlomeno per quanto riguarda la parte del settentrione e una parte del meridione danno come favorito il centrodestra, però è anche vero che poi in politica giocoforza i sondaggi la fanno da padrone, però il voto finale è quello dell'ultima ora, quindi ahimè voglio dire… ma poi il centrodestra arriva e fa opposizione, perché ha sempre fatto opposizione e poi fondamentalmente come le ho detto nasconde qualcosa di molto magmatico, qualora dovesse arrivare il PD, il PD ormai è renziano, il PD è fatto di micro coalizioni e quindi di particelle, finirebbe poi dopo con l'appoggiare Renzi e questa sua tra virgolette selvaggio atteggiamento riformista, ma non nei confronti del territorio nazionale, Renzi va in Europa, poi che cosa fa? In un qualunque palazzo infila un batter e propone a tutti quanti di vomitarci dentro, che ci arrivi il Movimento 5 Stelle? Lui ha già tentato di farlo, il Movimento 5 Stelle finirà con l'alleanza, per quanto sia piuttosto ostile e rifiuta l'alleanza, finirà poi per fare sodalizio con la Lega, gioco forza, poi addirittura ho sentito dire che come purtroppo stiamo assistendo a delle vicende non soltanto locali, ma anche in asse nel mezzogiorno, chiunque arriva e magari ha alle spalle un percorso non del tutto chiaro e non del tutto lineare, a livello proprio o civile e o penale, finirà ad essere incarcerato in delle piccole associazioni, che poi magari verranno recuperate da Berlusconi. Quali sono invece le sue proposte relative al territorio? Quali sono le sfere dove è più urgente intervenire? Io francamente quando penso a Manfredonia farei un top 10, ipotizzerei 10 punti importanti, non voglio soffermarmi perché ne ho già parlato in TV per quanto riguarda le infrastrutture, seppure programma Grasso c'è un capitolato importante per quanto concerne gli investimenti pubblici, lì dove noi puntiamo, prima ancora che operare i trasferimenti monetari o gli sgravi fiscali che sono stati adottati dai miei, dalle macro aree, chiamiamole così, per Manfredonia. Manfredonia nasce come città di mare, quindi ribadisco, non parliamo del contratto d'aria, non parliamo dei mancati interventi sulla San Galli che è tutti noto, che è il cavallo di battaglia di Emiliano, però ancora non si smobilita nulla, io direi Manfredonia mare, insomma Manfredonia è una città turistica, oltre ad essere una città turistica dove noi abbiamo il prodotto già ben confezionato, perché a Manfredonia c'è turismo sostenibile dovuto innanzitutto da un bene che è il mare che si traduce in un prodotto economico, quindi a Manfredonia il turismo diventa una risorsa economica di tutta eccellenza, il che significa che grazie a quello che il mio programma suggerisce, una riconversione in termini economici del prodotto e del bene turistico di Manfredonia determinerebbe all'interno del territorio un plus valore aggiuntivo per quanto riguarda il PIL. Ritornando, perché adesso mi sono un po' spostata, vi chiedo scusa, io sono molto legata alla mia terra e direi ancora tantissime altre cose, tornando a noi, il voto a liberi uguali è l'unico voto utile possibile, perché l'EU vuole proprio questo, la programmazione, l'EU vuole fare dei piani di lavoro, perché dicono questi corpi elettorali nel momento in cui arrivano al Parlamento si siedono sulle poltrone e non ascoltano quelle che sono le nostre proposte innovative o comunque le nostre richieste, no, io l'EU dico, nel momento in cui riesco a diventare un partito e ho l'opportunità di rappresentare chi mi ha votato, perché io ci vado lì con il mio gruppo, io sono una testa da riete, ma non mi assumo nessuna responsabilità, siamo tutti assieme, io creerei delle tavole rotonde, biennali, ogni biennio io pongo un problema, la scuola in due anni lo risolvo, il problema del lavoro sul precariato, cerco in due anni di trovare una soluzione e credetemi, in due anni un problema lo si risolve. Concludo e vi ringrazio dicendo che 1 marzo, giovedì ore 19, sede l'EU, il nostro comitato, via San Lorenzo 116, noi chiudiamo questa tornata elettorale. Io invito tutti, ma davvero tutti, soprattutto quelli che hanno dei dubbi o addirittura coloro che stanno pensando di essere astensionisti, di partecipare a questo nostro ultimo incontro, perché sono convinta che dopo avermi vista o ascoltata, possa io fare in modo che decidano di votare l'EU, perché è davvero l'unico voto utile, la sede è abbastanza facile da raggiungere perché è una parallela della Chiesa Madre e della Chiesa Cattedrale. Grazie. Grazie a voi, grazie a voi.